Buongiorno, mi chiamo Marco Petrucci e ho partecipato all'edizione del Master dell'anno 2005-2006, Master in Lighting Design presso il Politecnico di Milano. Devo dire che è stata un'esperienza molto formativa per quanto mi riguarda perché ho potuto approfondire quella che era la materia, ossia la professione che speravo poi realizzare nel mio futuro, che è quella del campo dell'illuminotecnica, che mi ha sempre affascinato e che ho cominciato a studiare all'università nel mio primo corso di studi alla Sapienza di Roma. Mi sono trovato molto bene perché innanzitutto è un corso interdisciplinare, mette insieme dall'elettrotecnica alla fisica e a tante parti di cui poi l'illuminotecnica è costituita, perché si passa dall'architettura anche un po' alla politica, alla gestione del progetto con il committente e a tutte poi le specifiche tecniche che vengono sviluppate durante un progetto. Questo poi è quello che è stato in gran parte il Master e la cosa che a me è piaciuta e che consiglio è quella di provare perché è molto importante applicare la teoria alla pratica e quindi quello che poi è successo durante il Master, ossia una prima parte del corso tecnica e quindi teorica e poi applicata ad una seconda parte di Workshop dove abbiamo lavorato in team e abbiamo portato avanti progetti luminotecnici piuttosto che sviluppo del prodotto e questo secondo me è stata una cosa molto interessante perché ha fatto capire a me quello che poi sarebbe stato il mio futuro lavoro.